Sì, ma è sbagliato, era sbagliato il cross. Poi stavo bravo Fabio a farsi trovare lì. Sì, quest'anno, se non sbaglio, mi sono la terza, la quarta volta che il Misti mi propone a destra e cerco di ripagare la fiducia. E poi a destra sono facilitato perché gioco con il mio piede, e nel più spontaneo cercare le giocate. Però sono contento perché la squadra ha dimostrato che ci siamo e che al ritorno ce la possiamo andare a giocare. Tanto è una partita dovevamo vincerla, quindi speriamo andarla a vincere là. Sì, noi siamo in un'ospedatoio, c'era tanto rammarico, soprattutto per l'ultima occasione capitata a Ferrani, che il corsi ha fatto un grande salvataggio. Però siamo consapevoli che siamo bene, siamo vivi, e andiamo lì a giocarci. Non abbiamo niente da perdere e speriamo di dare una gioia alla società, ai tifosi, a tutti coloro che ci seguono. Sinceramente all'inizio stavo un po' ansioso perché io vengo dai direttanti, infatti stavo pure in macchina con Fabio, una partita così non l'avevo mai giocata. E chissà se mi ricapiterà in futuro di giocarla, sinceramente.